Grazie a tutti. Il problema è proprio questo, ovvero abbiamo presentato, depositato a fine giugno un provvedimento proprio volto a chiedere un chiarimento agli uffici su questo tema e ci hanno fatto sapere il segretariato che per quanto riguarda gli interventi ancora da realizzare, che prevedano un prolungamento della concessione, non sarà possibile autorizzarli. Una settimana fa il Dipartimento ha raccolto 50 richieste di intervento, 50 schede merloni da inserire nel piano degli investimenti. Ci sono state trasmesse, personalmente gliele ho ridate indietro in quanto avevamo previsto un iter necessario all'inserimento di questi interventi, ovvero escludendo quelli presentati da concessionari scaduti e quelli presentati da concessionari morosi. Dopo queste verifiche si è arrivato a un risultato di 19 schede, non 50. Queste 19 schede comunque non potranno essere efficaci finché non arriveremo all'approvazione del regolamento perché il presupposto per la realizzazione di questi interventi è appunto il prolungamento della concessione che il segretariato non autorizza, nemmeno la ragioneria. E quindi per questo motivo sarebbe inefficace comunque andare a inserire questi interventi nel piano degli investimenti. Mentre invece il lavoro sul regolamento è assolutamente necessario e non più rinviabile ed è quello che c'è un appuntamento tra poco dal segretariato tra l'altro proprio per discutere di questa richiesta. Anticipo anche per quanto riguarda la richiesta al 348, ovvero quella del tavolo di lavoro con i non concessionari. Dicendo anche questo è stato fatto per almeno un paio di mesi, il giovedì dopo il consiglio ci siamo visti, forse ogni tanto ci avete pure visto, ci siamo riuniti qui in sala delle bandiere. Il risultato quindi di questo lavoro è stato presentato al segretariato e adesso siamo in attesa di una risposta. Grazie.